Shalom Uraha, quanto è alto quest'albero? Sicuramente non arriva a 25 metri. Gli alberi da 25 metri comunque sono non così comuni. Questa è la grandezza che voleva Amman per uccidere Mordechai. Voleva qualcosa che si vedesse che è talmente alto che non è possibile raggiungerlo. Qualcosa che va oltre la nostra comprensione. Quello che è successo però è che Amman Arashah voleva impicchiare Mordechai e invece lui è stato impiccato. E da qui impariamo un principio. Venah Fohu, si è invertito. Akadosh Fohu molto spesso getta le basi per cambiare totalmente la situazione. Quando tutto sembra contro di noi, se noi ci rafforziamo in Emunah, in Bitechon, in fiducia in Hashem, noi abbiamo la possibilità di trasformare tutto. Come farlo? Consigliato il libro Shara Bittachon.